Ciao a tutti ragazzi, oggi facciamo un confronto tra le Oka Spigot 5 e le Oka Mafate Speed 4. Purtroppo non ho qua le Tecton, mi sarebbe piaciuto inserire anche loro, ma non le ho ancora provate, quindi facciamo il confronto solo tra queste due. Iniziamo col video. Iniziamo col parlare del battistrada di entrambe le scarpe. Allora, troviamo su entrambe una suola Vibram Megagrip, quindi la mescola è Megagrip. L'unica differenza sta che nel modello delle Mafate è la versione Light Base, ovvero un pochino più leggera, ma in soldoni, per quanto riguarda il grip, non cambia nulla, è comunque una sola Megagrip. Proprio una cosa che cambia, ma è proprio una postilla. Mi sono accorto che le Mafate hanno un grip un pochino superiore sul fango, per quanto riguarda il fango. Naturalmente hanno una costruzione diversa, c'è proprio anche la forma, il tassello, il posizionamento, eccetera, è diverso. Ma appunto perché poi le scarpe sono pensate anche per due utilizzi diversi, ma questo lo vediamo dopo. A livello proprio di trazione, quindi di utilizzo della suola, diciamo che sono molto simili, se non questa postilla, sul fango a favore delle Mafate. Continuiamo e passiamo a parlare dell'intersuola. Qua già le cose iniziano un po' a cambiare, abbiamo due scarpe abbastanza differenti. Per quanto riguarda le Mafate, troviamo una scarpa veramente molto molto ammortizzata, dove abbiamo una reattività abbastanza nulla, nel senso la reattività è una di quelle cose delle Mafate che mi aveva lasciato un pochino insoddisfatto. Al confronto, invece, le Spigot 5 hanno anche loro una buona ammortizzazione, ma una reattività decisamente maggiore rispetto alle Mafate. Questo è dato anche dalla rigidità della scarpa, e questo può essere già un primo termine di paragone sul quale potreste decidere quale scomprare. Le Mafate sono molto più morbide come scarpe, si piegano molto più facilmente e riusciamo ad avere una rullata del piede migliore. Per quanto riguarda le Spigotte, invece, sono molto rigide, cioè se io cerco di andare a piegarle faccio veramente molta fatica, e quindi ci risulta una scarpa decisamente più rigida. Arriviamo a parlare della Tomaia. Qui invece le scarpe sono abbastanza simili perché il materiale con cui ho fatto è esattamente il medesimo. Io mi sono accorto che è un materiale che dura nel tempo, soprattutto queste Spigotte ce le ho, come sapete, da marzo, e quindi non ho mai avuto problemi. Hanno anche entrambi dei punti fatti in materiale plastico per evitare che si vadano a rompere in punti particolarmente soggetti a rottura, comunque dove la pressione è un pochino più alta, e vi dirò, cioè, sono abbastanza simili da questo punto di vista, soprattutto sulla Tomaia. Si comportano anche più o meno allo stesso modo. Io mi sono trovato bene con entrambe, sono molto traspiranti tutte e due, quindi, diciamo, da questo punto di vista un pochino si equivalgono. Una cosa che cambia, che cambia, è l'avampiede. A livello proprio di grandezza dell'avampiede, diciamo che siamo qualche millimetro a favore delle mafate. Ma il punto dove cambia veramente è la Tomaia. Nel senso, sulle Spigotte, la Tomaia, nel punto in cui esce dalla curvatura e va a salire la Tomaia, è una salita molto più decisa, quindi la Tomaia va a stringere molto il nostro piede. A confronto sulle mafate, la Tomaia fa una pancia, quindi non ha una salita così dritta, e facendo una pancia non va a chiudere troppo il piede. Quindi, nonostante, diciamo che proprio a livello di millimetri non cambi così tanto, nell'utilizzo proprio per questa Tomaia fatta in modo diverso, beh, cambia perché queste mafate risultano essere più larghe rispetto a queste Spigotte. Per intenderci, io per farmela andare bene, le mafate ho preso il 47 e delle Spigotte ho dovuto prendere il 48. Sempre considerato, però, che delle Spigotte esista anche la versione Wide, quindi un pochino più grande. Poi, naturalmente, sta a voi, in base alla vostra calzata, quando andrete a provarla, decidere se prendere un numero in più, la versione normale, per quanto riguarda le Spigotte, oppure le Wide. Arriviamo a parlare del contraforte tallonare. Sono molto simili. Sono entrambi molto imbottiti, e come vi dicevo, nelle recensioni abbiamo un piccolo problema di ingresso di materiale. Nel senso, io con le Spigotte 5 mi entrano davvero tanti sassi. Nelle 4 un pochino è stato migliorato, un pochino, però comunque qualche sasso mi è entrato anche qua. E qui, nel senso, anche qua, la differenza è davvero poca. Io ho notato che i sassi entrano abbastanza su tutte e due. Poi, naturalmente, dipende anche il terreno dove andiamo a correre. A livello di linguetta, invece, anche qua abbiamo due linguette completamente diverse. Cosa delle Mafate è bella imbottita, anche un po' tozza, diciamo, proprio la linguetta classica delle scarpe. Mentre sulle Spigotte abbiamo una linguetta che, come si dice, va a calzino, quindi non ha nessuna imbottitura. Ha una costruzione che va ad appoggiarsi perfettamente sul collo del nostro piede. Quindi, sono due calzature completamente diverse. Unica cosa, se siamo persone che proprio i lacci li tirano tantissimo, quasi poi da fermare la circolazione del piede, vi assicuro che io sono uno di questi. Sulle Spigotte 5, non avendo una linguetta imbottita, un pochino si sentono, ma proprio dovete tirarli assai i lacci per poterlo sentire. Però, io ve lo riporto. Infine, a livello di soletta interna, penso che le solette siano le stesse, io mi sono trovato bene con le entrambe, quindi anche qua nulla da dire. Arriviamo però al punto clou del video. Quindi, quando ha senso utilizzare le Mafate e quando ha senso utilizzare le Speed Goat? Allora, partiamo dal tipo di runner. Partiamo dalle Speed Goat. Queste sono scarpe che io consiglierei a qualsiasi tipo di runner. Dalla persona meno esperta, che corre abbastanza piano, alla persona elite, diciamo, uno che spinge, uno che vuole andare, per diversi motivi, tra cui soprattutto la reattività della scarpa. E questo è già un punto. La Mafate, invece, va bene, per gran parte dei runner eviterei se siete atleti elite. Perché comunque, quando magari ci troviamo nei punti in cui dobbiamo correre, la Mafate, avendo questa reattività che un po' manca, che dire, non vi aiuta molto, ecco, a progredire. Quindi, se siete atleti che vanno particolarmente forte, io le Mafate ve le sconsiglierei. Per gli altri, diciamo, da media classifica in giù, possono andare bene entrambe. E allora, come fare a capire quale acquistare? Lo capiamo in base al tipo di gara o al tipo di terreno che dobbiamo affrontare. Perché? Perché qua si differenziano veramente tanto. Per intenderci, le Mafate sono scarpe che io consiglierei per quelle gare che, almeno io chiamo da elettrocardiogramma. Perché abricamente, se nemmeno elettrocardiogramma, fanno su, giù, su, giù, su, giù. Non è un tratto, diciamo, in cui poter abbastanza correre. In quel caso lì, dove abbiamo quindi delle salite belle toste, ma soprattutto delle discese lunghe, faticose, dove magari il terreno è anche abbastanza tecnico, assolutamente meglio le Mafate. Sono scarpe che ci aiutano di più, sono scarpe che, alla lunga, fanno anche un pochino stancare meno il piede. Quindi, che dire, diciamo che se sono veramente delle gare molto tecniche, a me viene in mente, perché l'ho fatta alla Valmalink Ultra Trail, lì, tra le due io porterei le Mafate, per intenderci. Per noi, che perché gare invece vanno bene le Spirigot? Per gare invece più corribili, per gare dove le salite sono più corribili, per gare che magari abbiamo anche dei diversi tratti in falso piano, dei tratti anche un pochino in pianura, quindi dove c'è da sviluppare velocità correndo. Tolto il fatto che, naturalmente, se dovessimo essere persone che, per l'80% delle gare, camminano, allora a quel caso lì sono un po' equiparabili, nel senso, a quel caso lì dovete andare a provarle, vedere quale dicalza meglio e poi decidere, perché, diciamo che la differenza la fanno molto sul momento in cui noi andiamo a correre. Un esempio, per quanto riguarda le Spirigotte, invece, proprio perché l'ho fatta, è la Chianti Ultra Trail. Io ho fatto quella gara, proprio con queste Spirigotte mi sono trovato molto bene, perché in tutti i punti di falso piano, in cui c'era da correre o nelle salite corribili, avere comunque una scarpa con una certa reattività ti dà modo di poter sviluppare velocità. Dato ciao, ragazzi, io spero di avervi aiutato nella scelta se comprare le Spirigotte o le Mafate. Se avete delle domande particolari, di cose di cui non ho trattato, di cui, non lo so, volete qualche spiegazione in più, tra le due, vi raccomando, c'è sotto il box commenti, voi scrivete che io cerco di rispondere a tutti. Ci tengo assolutamente a precisare che queste poi sono mie sensazioni, e soprattutto una grande parte della scelta della scarpa la fa la calzatura. Quando la mettiamo, come la sentiamo. Quindi il mio consiglio è prendete quello che vi ho detto, ma andatele comunque a provare, mi raccomando, perché anche se magari dovete fare una VUT, può essere che per la vostra conformazione del piede, nelle Mafate non ci state bene, ma preferite delle Spirigotte. Quindi alla fine è una cosa molto soggettiva. Dato ciò, io nella speranza di essere stato esaurante e esaustivo, vi ringrazio per aver guardato anche questo video, e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!